Bentornati a Radio Design, io sono sempre qui, Nicola Palumbo, docente web marketing presso l'Istituto Italiano Design. Oggi vi presento Gianluca Sandrone, graphic designer e docente qui presso l'Istituto. Benvenuto. Buongiorno. Allora, Gianluca, raccontaci un attimo qual è la tua formazione per iniziare. Allora, io ho frequentato il Politecnico di Torino, un corso di disegno industriale. Per la laurea, quella normale, i primi tre anni. Poi dopo ho lavorato un anno in uno studio di progettazione di Torino che si chiama Yet Matilde. Dopo quest'anno, era il primo esordio in un mondo del lavoro, sono andato un po' all'estero e dopo tornando da questa esperienza di stage all'estero, mi sono iscritto in un corso specialistico all'Isia di Urbino, quindi ho cambiato regione. Lì sono stato due anni, mi sono dedicato alla grafica editoriale, mi sono laureato e poi dopo sono tornato a lavorare a Torino per un anno e mezzo, un po' a Milano, e poi sono venuto in Umbria, siccome un mio docente della facoltà mi chiese di collaborare con lui e mi sono trasfitto qua. Ok, allora parliamo appunto attualmente di cosa ti occupi, cosa fai. Sì, collaboro con questo studio che si chiama Bicipiti Associati e Comodo Sociale, sono due realtà umbre che fanno capo alla figura di Marco Tortoioli Ricci che è il direttore artistico e niente, al suo interno ci sono altre persone come me che si occupano principalmente di grafica, degli account, gente più legata ai contenuti e seguiamo progetti di varia natura, tendenzialmente con una struttura Bicipiti che è quella più vecchia e consolidata seguiamo progetti, facciamo consulenza per le aziende e quindi ci occupiamo di grafica in ambito corporate, mentre invece con Comodo Sociale si fa la medesima cosa ma per commissioni pubbliche e quindi nel settore della cultura, mostre, bandi, editoria, però più in ambito culturale. E oggi invece stai lavorando a qualche nuovo progetto, qualcosa di personale, qualcosa che ci vuoi raccontare? Ovviamente oltre l'attività con lo studio c'è poi quella personale, seguo dei miei progetti, diciamo il mio settore di pertinenza principale anche all'interno dello studio quello della progettazione di libri, quindi il progetto grafico per l'editoria e anche il disegno del carattere per quelle che sono le mie competenze, però sono i due settori che mi affascinano di più, quindi capita a volte di collaborare con altri ex docenti in cui magari mi occupo soltanto la parte di disegno di carattere e più o meno questo. Adesso nella fattispecie ora sto realizzando il portfolio per un mio amico fotografo di lunga data, si chiama Matteo Montaldo che saluto, lui è di Torino, fotografo freelance, ci conosciamo da tantissimo tempo, da mesi devo fargli il portfolio, ma siccome non mi pagano, continuo a ritardare il lavoro. Lui lo sa, lo sappiamo, andiamo avanti così ogni volta e diciamo che dobbiamo farlo, ma non lo faremo mai in realtà lui lo so all'inizio. Però ecco, questo è da farsi. Poi ogni tanto mi capita di disegnare dei caratteri per un altro professore di materia, che saluto anche molto, si chiama Mauro Bubico. E con lui si fa sempre questo lavoro più di ricerca che a me affascina molto. E altre cose, dobbiamo realizzare il libro qua per i vent'anni dell'ID. Sì, infatti questa è una novità. E questo lo cureremo, per la parte diciamo editoriale lo curerò io, ma mi piacerebbe lavorare con Daniele Pampanelli per quello che è il discorso delle illustrazioni, visto che comunque anche lui è sì un grafico, ma con una attinenza all'illustrazione, una capacità illustrativa notevole. Allora si pensava di sfruttare questa situazione per fare anche un lavoro che ci piacesse fare insieme e un po' conoscerci. Adesso queste sono le cose. Infatti abbiamo fatto questo questionario per tutti i docenti. L'obiettivo è quello della pubblicazione, un po' fare il punto su questi vent'anni dell'ID e cercare di fornire uno strumento che sia sia a promozione della scuola, ma anche un po' un archivio di tutto quello che è stato prodotto all'interno della scuola. Vedremo, anche lì non sappiamo quando lo finiremo. Sappiamo che dobbiamo finirlo, ma non sappiamo quando. Ce la faremo. E poi sei qui anche docente di publishing, giusto? Di publishing, esatto. Quali queste parole inglesi che tu ami tantissimo? Diciamo editoria, però quando si usa publishing sembra che si parli più dell'atto proprio della pubblicazione, che non è di fatto proprio quello che faccio io. Cioè io non lavoro all'interno di una casa editoriale editrice e non mi occupo del contenuto della pubblicazione, quanto più di tutti gli aspetti editoriali legati al progetto grafico. Quindi parliamo di progettazione editoriale. Io ho, diciamo, tre classi. Qual è il tuo approccio? Diciamo che la materia anno per anno affronta delle tematiche diverse. Il primo anno l'abbiamo chiamata rudimenti di tipografia, quindi un approccio un po' introduttivo a quello che è la progettazione editoriale con un focus sulla microtipografia e regole tipografiche. Il secondo anno invece c'è una parentesi più sul carattere e quindi si cerca di insegnare ai ragazzi quali sono i crismi per riconoscere un carattere, come disegnarne uno e avere dei piccoli rudimenti su quello che è il disegno del carattere. E quindi poi il terzo anno c'è il corso diciamo principale che convoglia un po' tutte queste nozioni, che si chiama progettazione editoriale, su cui i ragazzi devono confrontarsi su una traccia, sono divisi in gruppi, ci sono tre tracce, loro possono scegliere, quest'anno erano tre, poi a seconda del numero di studenti, e devono sviluppare un progetto editoriale su fare proprio un loro libro su una traccia che ho stabilito io. Non possono scegliere nient'altra. Esatto, un po' di dittatorialità è necessaria in queste cose. Sì, in realtà poi dopo il libro lo gestiscono come vogliono, nel senso io do proprio un abstract introduttivo, poi loro sviluppano il tema come meglio credono, che è un po' il metodo con cui sono stato anche abituato io a lavorare, diciamo il classico laboratorio di progettazione, però vedo che sta dando dei risultati, il prossimo mese avremo gli esami con il primo anno, il primo terzo anno, sono tutti molto preoccupati e vedremo, stanno spendendo tantissimi soldi, ma non è vero. Vabbè, poi magari appunto quando verranno fuori questi lavori avremo anche qui i ragazzi, magari potrebbe essere figo fare una cosa con te e loro che raccontano il loro progetto, ma l'hanno sviluppato, farlo vedere anche in video potrebbe essere veramente figo. Sì, poi al di là degli scherzi, quello che è importante è che loro prendano confidenza nell'esporre i propri lavori, ma soprattutto ci sia un approccio critico, cioè quello che cerco di fare a lezione è un po' di staccarli dalla dinamica del voto, ma abituarli più a un confronto e alla criticità che può venire da tutti, dai colleghi, dall'insegnante, ma non deve essere presa come un rimprovero quanto la normalità. Certo, anche poi il cliente è sempre ultra esigente, anche se non ti ho... Purtroppo il design in sé, il confronto e queste criticità, il confronto col cliente si presentano quotidianamente ed è giusto anche che gli studenti incominciano ad essere avvezzi a questo sistema, ma non siano tapputati in questa realtà senza aver mai provato questa sensazione. Sì, fondamentale. Va bene, allora grazie, hai un sito, non so, dove possiamo trovare le cose che realizzi? Beh, c'è il mio sito personale, giallucasandrone.com e poi invece i lavori che faccio per le altre realtà con cui collaboro, Bicipiti Associati e Comodo Sociale. Va bene, allora grazie Gianluca. Grazie, grazie mille Nicola. Finalmente siamo riusciti a fare questa intervista dopo... Sì, 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 è stata anche molto bella, ero un po' preoccupato, agitato in realtà. No, la radio è figa, è molto bella. Anzi, se c'è voglia magari facciamo qualche spunto ogni tanto sul design o su qualcosa di cui ti piace parlare. Vabbè. Usando parole in italiano però. Usando parole in italiano, sì, perché già quelle in italiano le padroneggiamo male. Va bene, ciao. Va bene, alla prossima. Ciao, ciao. 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 Ciao.